Tutti i modi! Tutti i modi! Tutti i modi! Questo è l'aula Giulio Cesare, in Campidoglio. Questi sono i consiglieri comunali che i cittadini hanno eletto. Questo è quello che è successo stamattina. E' l'una quando il presidente Pomari ci dichiarà aperta la votazione sulla questione sospensiva avanzata dalla maggioranza, che in sostanza blocca la discussione sugli emendamenti proposti dall'opposizione sulla delibera numero 32. In pochi secondi succede di tutto. Grazie a tutti! Grazie a tutti! A buppo viene con destra a buppo! Stavo così, stavo! Viene da con destra a buppo! Stavo così, stavo! Vi hai dato con destra a buppo! Grazie a tutti!